Superato il rischio del mancato pagamento degli stipendi, Regione e Sindacati tornano a parlare del futuro dell'Azienda Unica di Trasporto. Lunedì incontro per rilancio dell'azienda. Mariano D'Amico. Riparte lunedì il confronto Suttua, l'Azienda Unica dei Trasporti. La Regione torna ad incontrare i sindacati dopo aver risolto il nodo dei pagamenti degli stipendi di novembre ai 1.600 dipendenti, anticipando le risorse che lo Stato non ha ancora trasferito nelle sue casse. Franco Rolandi, Fit CGL. Abbiamo preso atto favorevolmente che la Regione è riuscita a sbloccare un problema, sorto peraltro a margine del referendum con il quale i lavoratori avevano dato il consenso all'accordo aziendale. Abbiamo altresì trovato poco elegante l'atteggiamento di qualche forza politica che ha inteso strumentalizzare la vicenda degli stipendi a fini politici. Io ricordo che oggettivamente quello che è stato fatto in questi 15 mesi non è stato realizzato in un'intera legislatura. Scatta ora insomma la vera e propria fase organizzativa per far decollare TUA, ma quali saranno i temi sul tavolo lunedì? Noi chiederemo anche un intervento sul management che è essenziale per gli aspetti organizzativi. C'è da razionalizzare i servizi partendo dalle sovrapposizioni, c'è da intervenire sicuramente sul biglietto unico regionale, c'è da attuare una seria politica di lotta all'evasione tariffaria, così come c'è da portare a compimento il processo aggregativo delle aziende di trasporto pubblico. e mi riferisco nello specifico alla municipalizzata dell'Aquila, ovvero a Lama.